Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla FIPILI per incidente è chiuso il tratto tra Vicarello e lo svincolo della 12 in direzione Mare, ci sono code tra Lavoria e Vicarello. Per lavori, 3 km di coda in direzione Firenze, tra Ginestra Fiorentina e Lastra Assigna, rallentamenti sulla carreggiata opposta in direzione Mare. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Roma, code tra Aglio e Calenzano. Sulla A12 per lavori in direzione Genova, code tra il Bivio per il raccordo Lucca-Viareggio e Versilia. La viabilità cittadina a Firenze per lavori edili, in viuzzo delle lane chiuso il tratto tra Via Masaccio e Via Fattori. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!